Ci sono momenti come questi, in cui tutto il mondo sembra sul punto di crollare, e la fede fa tremare il tuo cuore. Quando il coraggio si fa silenzioso, quando vorresti gridare e invece continui a lottare solo, deluso, quando la fortuna sembra averti voltato le spalle e non riesci a guardare più in alto, tu, poeta, al di là delle stelle, quando non risponde più chi ti ama, o sei tu che non senti più la voce, seppure la stessa che chiama, è muto il dolore dell'anima, tace. Quando pensi ad una rima con cuore e non riesci a scrivere amore, perché vorresti cercare parole soltanto in un mondo migliore, no, non sei tu ad avere paura, è il mondo dell'uomo che trema, che insegue una strada più umana. Ci sono momenti come questi, dove l'unico sogno è ritornare alla vita per capire quanto è preziosa e che è infinita. Grazie a tutti. Grazie a tutti.